Teniamo un occhio per Stappen che partiva dietro da qua Salve ragazzi, un grande abbraccio e bentornati Sabato scorso ero a Milano per l'EICMA Ma questo invece la Formula 1 non ce la leva a nessuno Abbiamo un Neumacher in pompa magna di gran carriera In pole position qui in Austria a Spielberg Continua la grande e la pericolosa lotta verso il mondiale Obiettivo fin dall'inizio Guidando una Ferrari anche se le skill iniziali di Neumacher Ci avevano fatto un po' preoccupare Per adesso va bene, questa pole è una ottima conferma Questa pista aiuta perché una volta memorizzati i punti di staccata Giusto un paio di volte Cioè in fondo alla collina e poi dopo quando si riscende giù dalla collina Il resto mi è sembrata piuttosto semplicina Su sei componenti ne abbiamo anche tre giallognoli Ho notato che l'auto non va sotto particolari stress in questa pista Quindi possiamo finire dei componenti che comunque sono a metà strada Ma ancora banno Abbiamo detto tutto Adesso silenzio e partire bene Cos'è che già ci stacchiamo qua? C'è già un gruppo Oddio Con prudenza sempre a primo giro ragazzi Che C'è sempre da trovare un po' la confidenza Prima di andare A spingere davvero Il numi selvatico scappa con Hamilton Guardate come è anche su Hamilton In quell'ultimo settore Abbiamo gran ragione Sì macchinina Così non dobbiamo neanche sforzare troppo Che comunque portiamo questi componenti Alla fine della loro vita In maniera Oculata e intelligente Così li buttiamo via Quando proprio non hanno più linte da dare Questa è una staccata che dicevo Che va fatta per bene E l'altra è questa qua giù Poi il resto Abbastanza fattibile Penso che quel gruppetto Lì un po' Staccato Oh lungo un po' Sia no Le due Mercedes con Anche Vettel Sapete che io non mi ricordo Chi è il più vicino a noi Nel mondiale Se Vettel O Bottas Forse Adesso c'è Bottas Che si è messo lì davanti E prova a spingere Per tentare un recupero Su un humacher qua davanti Che a tratti riesce Ok stiamo raggiungendo Un punto pericoloso Con chiusura di MGOH Quando Alex comincia a parlarti Dei pericoli al motore Un po' di ansia ti viene Dietro Hanno recuperato parecchio In questo giro Vedremo come ci si sente A essere a Lonzo Noi andiamo morbidi Cerchiamo di evitare il panico Ci teniamo magari qualcosa Nel taschino Se mai qualcuno Dovesse farsi venire Brutta idea Ho visto per un attimo Cos'è quella bandiera Gialla che continua Oh la safety car Bottas Bottas che era Con Nel frattempo Io mi sono fermato Ragazzi Visto che siamo Sotto la safety car Penso di aver fatto Cosa buona e giusta Perché ormai C'eravamo Con le gomme Rientrerà in questo giro E siamo ancora Tutti staccati No dai ecco Ok mi sa che siamo ripartiti Siamo decimi Però non si è fermato Nessuno In teoria dovremmo avere Un grosso vantaggio Con la strategia Che abbiamo fatto Non si è fermato Nessuno Sono tutti in ordine Come li abbiamo lasciati Adesso queste gomme nuove Le spalmiamo in faccia Ognuno che passiamo Guardalo la trazione Della gomma nuova Bene così Teniamo d'occhio Se qualcuno si ferma Eccolo Questo stronzo È entrato lentissimo Ma ha fatto andare largo Ok quindi Fettel avrà tipo Un ritardo di una settimana E mezza Quando rientrerà Eh si raga Abbiamo fatto proprio La cosa giusta Occhio a quelli Che avevano Una strategia Particolare Che adesso Potrebbero farci Perdere del tempo Dobbiamo Oh Ah si Ocon e in testa Oddio Questo ripilla La scia Attenzione Dai 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 Siamo già a quarti Si sono fermati Qua nessuno Ah già ok Infatti mi stavo Proprio chiedendo Quello Dico che fine ha fatto Il DRS Ci volevano un paio Di giri dopo La safety Ah in pratica Questa è la testa Della gara E c'è Ah no è Ocon Me l'aveva detto prima Che è Ocon Quello lì Eccolo il DRS Questi qua Avevano una strategia Inversa Diciamo Primo stinto Più lungo Perché erano Dietro Oh Quindi adesso Non ci permettono Di andare in fuga Davanti Preferendo Rovinarci un po' La gara Ma va bene È il loro lavoro Eh ma tanto Uno dei due Alla prima curva Non ci arriva vivo Sempre che non si fermino Adesso Eccoli Tutti e due Ciao Ok Abbiamo pure il DRS Chi è che ci insegue Da vicino Stroll adesso O forse no Vediamo un attimo Quando si è liberata La situazione pit stop Sì è Stroll dietro E poi c'è Science I componenti Che erano Alla ricotta Stanno tenendo Alla fine della gara Saremo penalitati I commissari Ti hanno assegnato Dei secondi Da scontare Cazzo Sono finito largo Ok ragazzi Nuova missione Finire con Tre secondi Scusate Un insetto Sul casco Pinciamo uguale Finire con Tre secondi Di margine Sei giri Per non distrarci Oh Verstappen Che tra l'altro Partiva dietro Ha fatto una Delle sue Ne ha fatta Una delle sue Rimontone Incredibile Teniamo d'occhio Verstappen Che partiva dietro De qua Ok Siamo a 5 secondi E spiccioli Da Verstappen E stiamo attenti Perché quello là Se c'ha voglia Li recupera Deve recuperarne un paio Tra l'altro Neanche tutti Ammesso che ovviamente Abbia già fatto la sosta E tutto Diamo sempre per scontato Ok Distanza dal compagno Di scuderia 14,5 secondi Tra l'altro Io ne ho preso mezzo A Verstappen Ho togliato un pochettino Attenzione Non beccarci Altri tre secondi Tra un po' Sei secondi e sei Verstappen è veloce È lì Con noi Infatti ha passato Grosjean E salutato Oh Cazzo Merda Stiamo attenti Qua ho perso Almeno un secondo Il distacco Da quella dietro È 5,5 secondi Eh sì Attenzione che forse Gli hanno detto Che stiamo avendo Magari qualche difficoltà E quindi Provo a dare tutto Verstappen Ricordiamo che Deve recuperare Due secondi e mezzo Non cinque e mezzo Perché noi ne abbiamo Tre da scontare E anche questo Sicuramente Gli hanno detto Cosa hanno fatto Le due Red Bull Fantastiche Si sono accodate Adesso sul podio Due e tre È probabile che magari Oddio Oddio Adesso non le abbiamo viste Perché erano dietro Ma magari Partivano Dietro Forse per delle penalità Insomma Che avevano sostituito Qualcosa Eccetera E hanno fatto Quello che abbiamo fatto Noi Con la safety car A noi ovviamente Ci ha lanciati in testa A tutti con distacco Sei all'ultimo giro Yeah 5 secondi e 4 Vabbè Due secondi e 4 In un giro Non me li prende A meno che non mi distraggo Proprio tantissimo È male No All'ultimo giro Dai Poveretto Però Non ci credo Troppo realistico Questo gioco Ma io farei i complimenti Sia a Numaker Ma anche alla safety car Ma soprattutto Alle due Red Bull Che porca vacca Non so come sono partite Ora lo vediamo È la gara Secondo Perché ho fatto secondo Che cazzo Mi state Dicendo Voi non potete capire Cosa è successo Sapete perché abbiamo fatto secondo Ho visto sulla griglia A parte i 3 secondi Che li abbiamo visti in gara Ma eravamo più avanti Eravamo tipo a 5 secondi Da Verstappen Quando siamo arrivati Avevo Un'altra penalità Di altri 5 secondi Indovinate per cosa Perché con la safety car Sono entrato nei box E entrando nei box Ho passato uno Al quale sarei dovuto Rimanere dietro Ma in pista Non ce l'ha fatta Col tempo A ripassarmi E mi è dato la penalità Come se avessi passato Una macchina Sotto le bandiere gialle Che poi era uno stop and go Ma non mi hanno stoppato Per 5 secondi Perché era Proprio fresca Di momento La penalità Quindi me l'hanno aggiunta alla fine Aggiungo io Se mi avessero fermato 5 secondi nel box Essendo 5 secondi più indietro Forse ci saremmo Stradivertiti Con le due Red Bull Invece ci siamo solamente Presi un'inculata finale Che veramente Non me l'aspettavo Perché nella corsia di box Io non mi ero reso conto Non mi ero reso conto Della penalità Sinceramente ragazzi Guardavo altro Cioè nel senso Dico cambiatemi le gomme Vado Quando monto il video Vado a ripescare quel momento Perché sicuramente Un avviso a schermo Ci dovrà pure essere E ve lo faccio vedere adesso Roba da matti Secondo posto Per La cazzo di safety car Che non si è accorta Che io ero andato Nei box Non ho passato proprio nessuno Cedi la posizione Siamo in regime di safety car E non sono consentiti i sorpassi Restituisci la posizione In ogni caso ragazzi Vi lascio con questa bella classifica Che ci vede ancora in testa Sicuramente abbiamo allungato Di un pochettino su fette Perché lui sarà arrivato Come minimo quarto Non ho visto sinceramente Comunque ero Ero incazzato per quella cosa Ma dovrebbe essere Verstappen Che culo Neumacher E Ricciardo Vabbè dai Smaltiamo sta delusione Non è niente di che Invece di un primo posto Abbiamo fatto un secondo Certo sono sette punti Nella Formula 1 Non cinque come la MotoGP MotoGP tra l'altro Che fa schifo Su sto circuito Ma la Formula 1 È piuttosto agevole Abbiamo la Ferrari Ci sta andare forte Qua se non fosse stato Per la safety car Eravamo comunque In quel gruppo lì Dietro insieme Vedremo vedremo ragazzi Intanto godiamoci sto campionato Che ancora Ci sono appunto Delle piste stronze Dieci punti Non sono niente Nella Formula 1 Primo secondo Ne passano sette Occhio sempre a Sebastiano Che autostralunga Va bene Se non mi avete ascoltato Per tutto il tempo Vi capisco Un abbraccio E alla prossima Ciao Buongiorno Grazie a tutti.